Commissario, una delibera che può essere considerata il pomo della discordia. Una delibera che ha creato confusione, così come ha detto lei nel suo intervento. Bene, vogliamo chiarire i termini di questa delibera? Sicuramente ha creato confusione anche negli articoli del giornale che sono usciti in questi giorni. La delibera non era assolutamente una delibera di chiusura della cantina. La delibera era soltanto una modifica delle modalità di accesso alla cantina stessa. Io ho voluto riunire oggi le associazioni o anche i cittadini interessati alla cultura della città di Partinico proprio per cercare una soluzione. In effetti, la stessa che ha partecipato alla riunione si è resa conto che è venuto fuori un problema che non è connesso alla delibera che è stata fatta l'altro giorno. Ma al regolamento? Dal regolamento che era in effetti un poco strano perché sicuramente non è comodo per il turista per caso come è stato nominato oggi arrivare alla cantina, trovare il personale come era fino all'altro ieri ma il biglietto avrebbe sempre dovuto farlo alla sede del Palazzo Carmelitani. Ecco, questo è un discorso in effetti che deriva da una precedente delibera che oggi ha preso essere il 2015 a seguito di un regolamento che era stato approvato dal Comune ed è quello che dobbiamo cercare di aggiustare. Però, come ho detto ora concludendo la riunione, la cantina sia per il mese di gennaio che per il mese di febbraio resterà aperta ogni giorno perché ci sono in corso delle mostre e quindi non esiste il problema della delibera che avevo fatto io del cambio delle modalità di accesso. In questi due mesi in cui la cantina sarà aperta appunto perché c'è la mostra in corso cercheremo di modificare la precedente delibera che era la conseguenza del regolamento e che è alla base di queste distorsioni che giustamente sono venute fuori oggi dalla riunione. Io ho capito anche che qualche polemica era diretta al fatto che il personale è stato trasferito al Palazzo dei Carmelitani, quindi materialmente non resterà nessuno. Ecco, il discorso era, la delibera che avevo firmato io, era la modifica della modalità di accesso e consisteva nel fatto che il personale anziché stare lì sempre a Palazzo, alla Real Cantina ritornava nel proprio ufficio e nel momento in cui c'erano delle persone che chiedevano di fare visita dato che, ripeto, il biglietto doveva essere fatto in ogni caso al Palazzo dei Carmelitani sarebbero andate ad aprire la cantina. Ma, come ho avuto modo di dire e anche ho detto poco fa, adesso abbiamo un mese e mezzo davanti nel quale la cantina deve essere aperta perché c'è una mostra e cercheremo di risolvere questo problema che è quello del biglietto che deve essere fatto a Palazzo dei Carmelitani. Risolto il problema trovando una soluzione, vediamo se il biglietto si può fare direttamente alla Real Cantina tramite le Proloco o tramite qualche altra associazione, il problema non esisterà più. Mi scusi, non sarebbe stato opportuno convocare una conferenza stampa per evitare tutta questa confusione? Anche le polemiche su Facebook? Io pensavo che leggendo la delibera, la delibera già nel titolo parla di modifica delle moralità di accesso alla cantina. Non è che nel titolo della delibera c'è scritto chiusura della cantina. È stato interpretato in questo modo? Si è interpretata male ma adesso credo che la riunione di oggi alla quale ha partecipato veramente tanta gente e tante associazioni, penso che il discorso sia stato chiarito, tanto è vero che è venuto fuori che dobbiamo mettere mano alla delibera del 2015 e non a quella del 2017. Presidente, relativamente alla delibera che ruota intorno alla cantina borbonica, il commissario ha detto e confermato nell'intervista che non si tratta di una revoca della delibera ma bisogna mettere mano nel regolamento che credo risalga al 2012. Il regolamento è stato fatto nel 2012, il regolamento detta le linee generali di come deve essere utilizzata e fruibile la cantina borbonica. Poi ci sono delle applicazioni, un'applicazione è quella dettata dalla delibera che poi è stata fatta all'Aggiunta Municipale nel 2015 che disciplinava sia metodo di entrata, modalità, costo. Quindi questa, alla luce della delibera che è stata fatta invece oggi nel 2017, il 20 dicembre con i poteri del Consiglio Comunale, è venuto fuori nell'opinione pubblica, effettivamente che al di là dell'apertura e della chiusura della cantina borbonica c'erano tante discrasie per quanto riguarda questa applicazione del regolamento che l'Aggiunta Municipale aveva fatto nel 2015 e quindi dall'Assemblea... Quindi alla pentola si è tolto il coperchio, ho capito? Alla pentola si è tolto il coperchio e quindi dall'Assemblea che è stata, che è uscita fuori da quello che si è discusso stasera è uscito fuori che sicuramente questa delibera deve essere assolutamente modificata. C'è il fatto che ci sia un gruppo di persone che vogliono visitare la cantina e allora devono prima andare al Palazzo dei Carmelitani, prendere il modello per fare la richiesta, devono fare la richiesta, poi devono andare in un centro dell'Ottomatic, in un tabacchino per fare il pagamento, poi devono ritornare al Palazzo dei Carmelitani per consegnare la ricevuta di pagamento e poi devono andare a visitare la cantina. Certamente è una cosa che non sta né in cielo e né in terra. Ci vuole una navetta. E quindi ci vuole modificare questa applicazione di questo regolamento e questo è l'impegno che ha preso il commissario straordinario, ha detto che nel giro di una ventina di giorni, un mese circa, anche perché in questo momento essendoci la presenza di mostre lì l'apertura è assicurata, quindi dentro un mese procederà a modifica di questa delibera. Inoltre ha anche incaricato il sottoscritto, quello che è venuto fuori sempre dall'Assemblea di stasera, di formare un comitato di lavoro, un tavolo tecnico di lavoro dove potranno partecipare, ora vedremo le associazioni che sono presenti nel territorio, ce ne erano parecchie stasera, giustamente dice il commissario non creiamolo troppo ampio perché altrimenti diventa anche come dire difficile poi nella gestione e questo comitato tecnico che si costituirà a breve parteciperà anche, secondo me è importante, alle riunioni assieme al commissario e ai funzionari del comune per predisporre questo nuovo atto deliberativo che disciplina un po' tutta la materia inerente alla cantina borbonica. Grazie. Grazie. Grazie.